Buongiorno, bentornati al Tg2. Il Governo ha individuato le risorse per evitare l'aumento dell'IVA. La notizia è arrivata proprio pochi minuti fa direttamente dal Presidente del Consiglio. I 23 miliardi ci sono, ha detto appunto Giuseppe Conte, che poi ha aggiunto stiamo anche lavorando per abbassare l'IVA sulle bollette. In precedenza c'era stato un vertice notturno che aveva evidenziato distanze nella maggioranza. Nel tardo pomeriggio ci sarà il Consiglio dei Ministri per aggiornare appunto il documento di Economia e Finanza. Sentiamo Ilaria Capitani e poi Barbara Romano. La notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'IVA. Neutralizziamo le clausole di salvaguardia, quindi i 23 miliardi ci sono, li abbiamo trovati. Rassicura il Premier Conte, stiamo lavorando anche per abbassare l'IVA sulle bollette dal 10 al 5%, dice nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri per il varo del DEF. Banco di prova per la maggioranza giallorossa preludia la manovra economica. Le tensioni tra PD e 5 Stelle segnano le divergenze sulle risorse da reperire per scongiurare aumenti seppur selettivi dell'IVA, senza far salire il deficit. Prima il distinguo del Ministro Di Maio, capo delegazione dei 5 Stelle. L'IVA non può aumentare né nell'aliquota minima, né in quella intermedia, né in quella più alta. Parole che non impegnano la maggioranza, la replica del Ministro Franceschini, capo delegazione del PD, che respinge il modo considerato ultimativo dell'alleato. Divergenze anche sul taglio del cuneo fiscale. Lo scontro si consuma nella notte, un vertice di quattro ore, convocato dal Premier con il Ministro dell'Economia Gualtieri. Oltre a Di Maio e Franceschini, presenti il sottosegretario Fraccaro, i Ministri Speranza e Bellanova, Di Leo e Italia Viva. Allo stesso tavolo le quattro forze politiche che sostengono il Governo, Conte e Media, con dei punti fermi, a cominciare dal taglio del costo del lavoro. Il mio obiettivo è assolutamente dare più soldi in busta paga agli italiani e ai lavoratori dipendenti. Quindi secondo me è giusto che in questa congiuntura economica ci sia il cuneo fiscale a favore dei lavoratori. Lo abbiamo scritto nel nostro programma economico. È giusto non aumentare l'IVA, premette Zingaretti, ma se dovesse passare la linea del Ministro Dem Gualtieri, che non esclude un rincaro selettivo, il segretario chiede di non scaricarne i costi sui comuni e sulla povera gente. Insomma, il PD non è favorevole all'aumento dell'IVA, ma su alcuni prodotti di lusso appoggerebbe un innalzamento dell'imposta per finanziare il taglio delle tasse sul lavoro. Conciliare sviluppo e giustizia sociale, questa è la linea Dem. Il governo sta lavorando a una legge di bilancio che sarà espansiva, aumenterà il potere d'acquisto dei cittadini e ridurrà il cuneo fiscale a cominciare da questa legge di bilancio e a continuare nelle leggi di bilancio successive, così che nelle tasche degli italiani ci saranno più risorse. Molto più ultimativa Italia Viva. Se la maggioranza tira dritto sull'aumento dell'IVA, la manovra ve la votate voi. Questa è la linea Demenziani. Se un mese fa nasce un governo, per lo più strano anche nella sua formazione, per impedire l'aumento dell'IVA, un mese dopo l'IVA non può aumentare, neanche parzialmente, neanche selettivamente. La politica ha bisogno di recuperare credibilità e questa è una prima occasione. Per liberi uguali, Speranza chiede più investimenti e abbassare i tasse sul lavoro. Dall'opposizione Salvini che continua a...